ciao ragazzi e bentornati sul canale mac gabry collections ed eccoci tornati con l'ultimo video tutorial dedicato alla costruzione di jig robot d'acciaio alto 70 centimetri modellino spettacolare in questo video tutorial infatti faremo l'unboxing degli ultimi due numeri ragazzi eccolo qui il 59 e il 60 dove all'interno abbiamo trovato gli ultimi due pezzi per completare il basamento di esposizione del nostro modellino ecco qui stiamo parlando dei due pezzi sul lato posteriore della base siete pronti per questo nuovo tutorial allora iniziamo vai jig robot d'acciaio ultimo video e prima di iniziare l'unboxing mi raccomando lasciate un super like al modellino di jig robot d'acciaio e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale mac gabry collections per seguire tutti i prossimi appuntamenti del canale mac gabry collections qui in alto a destra trovate il link alla playlist di jig robot d'acciaio dove trovate la raccolta di tutti i video tutorial per l'assemblaggio passo passo di tutto il modellino mi raccomando andate a vedere sul canale anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino del ferrari trasporter altro modellino che stiamo per completare ragazzi mancano sette fascicoli modellino veramente mostruoso e nell'ultimo tutorial abbiamo assemblato i portelli dei vani del semi rimorchio semimorchio mancano veramente due pezzi è quasi completato ma è bellissimo ragazzi andatelo a vedere detto questo iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare il modellismo procediamo andiamo quindi a fare una panoramica del basamento che stiamo assemblando e allora abbiamo già unito le prime due parti ossia quelle frontali quelle più importanti dove troviamo il nome jig robot d'acciaio modellino originale in collaborazione con l'iamato srl e sulla parte destra troviamo tutte le caratteristiche tecniche di jig robot d'acciaio quindi l'attezza il peso l'armatura la velocità e le sue armi e qui ovviamente troviamo tutto il design di questo basamento che non vedo l'ora di vederlo completo guardate che spettacolo e questo invece è il nostro modellino di jig praticamente completato parzialmente diciamo posizionato sul basamento ragazzi quindi a termine di questo video tutorial vedremo tutto il modellino completo del basamento guardate che spettacolo ragazzi è veramente fantastico ci siamo procediamo andiamo quindi a vedere gli ultimi fascicoli di jig robot d'acciaio quest'opera come sapete composta da 60 fascicoli che ci siamo portati a casa con poco più di un anno magari fossero tutte così le opere con 60 fascicoli ragazzi sarebbe di farle veramente tutte fascicolo numero 59 con all'interno la terza parte della base assemblaggio delle due parti che compongono appunto la terza base eccolo qui quindi il cover superiore e la parte inferiore che ci fanno vedere la testa ma noi abbiamo già assemblata ecco qui il poster allegato a questo fascicolo concludiamo quindi con l'ultimo fascicolo di questa fantastica opera qui c'è ovviamente l'assemblaggio di tutta la base del nostro modellino veramente simpatica l'ultima frase posizionare il tuo jig sulla base con tanto di punto e scala di ora si opera completata ecco una panoramica della base che adesso andiamo ad assemblare eccolo qui il nostro jig spettacolare ed ecco qui l'ultimo poster allegato al fascicolo di roshishiba ok ragazzi andiamo a completare l'opera procediamo andiamo quindi a fare l'unboxing della terza parte della base eccolo qui allora questa è la parte posteriore del piede destro cosa che potete vedere raffigurata qui particolare che è appunto la continuazione di questo disegno diciamo in argento satinato che dà veramente un aspetto molto accattivante a tutto il basamento eccolo qui pezzo molto diciamo semplice e come come vi ho già detto nei tutorial precedente basamento che mi piace molto di più rispetto a quello di ufo robot dove hanno appunto apportato questo design diciamo delle caratteristiche diciamo più belle allora quello che facciamo su questo particolare sarà quello di andare ad avvitare la vite che va ad unire queste due parti ossia la base che è stata già inserita all'interno della parte superiore procediamo andiamo quindi a serrare la vite sul foro centrale ed ecco fatto quest'altro foro ovviamente lo utilizzeremo per fissare il nostro modellino al basamento questo non è una cosa obbligatoria per esempio goldrek non l'ho fissato perché comunque è un modellino molto stabile non può accadere anche perché il modellino senza il basamento è bello apprezzarlo averlo tra le mani quindi io non l'ho fissato proprio per questo motivo ovviamente questo nastro adesivo che è stato utilizzato per fissare la bustina delle viti andrà rimosso rimasto tutto il collante ragazzi qui ci passiamo un po di spirito e ovviamente lo andiamo a pulire altrimenti si fa tutto nero si attacca tutte a sporcizia quindi andiamo a pulirlo ecco qui base 3 pronta e per finire andiamo a fare l'unboxing dell'ultimo pezzo del modellino di gig robot d'acciaio la base numero 4 quindi la parte posteriore del piede sinistro eccola qui diciamo ancora più semplice sempre con la continuazione di questo disegno in argento di particolare molto simile a quello che abbiamo già visto prima da notare qui gli attacchi tipo puzzle quindi il maschio e la femmina che a breve utilizzeremo per fissare tutto il basamento ok come al solito andiamo a fissare la vite qui sul foro chiuso per unire queste due parti dopodiché iniziamo con l'assemblaggio per il completamento del basamento andiamo quindi ad unire tra di loro e la base numero 3 e la base numero 4 quindi facciamo coincidere l'attacco maschio con quello femmina li facciamo coincidere ragazzi e premiamo fino in fondo ed eccola qui la parte posteriore del basamento che adesso siamo pronti per andarla a fissare con la parte anteriore e andiamo così a completare il nostro basamento procediamo ragazzi quindi facciamo coincidere tutte tutti gli attacchi che sono tutti di tipo maschio con quelli femmine che troviamo nella parte posteriore premiamo e andiamo ad unire il tutto eccolo qui ragazzi adesso ci facciamo una bella panoramica guardate che spettacolo ed eccolo qui il basamento di gig robot d'acciaio al termine di questa fase di assemblaggio veramente bello ragazzi un figurone proprio per farvi capire diciamo la l'importanza di questo basamento vi ho messo qui a confronto quello di goldrack come potete vedere al di là della scritta dorata che veramente figa tutto il resto delle basamento è molto semplice rispetto a quello di gig che come potete vedere è molto più elaborato veramente bello guardate la differenza non c'è paragone a me piace tantissimo questo e piace anche molto di più il modellino di gig che adesso come abbiamo letto sulle istruzioni andiamo a posizionare il nostro gig sul basamento procediamo recuperiamo quindi il modellino di gig robot d'acciaio e lo andiamo a posizionare in corrispondenza delle impronte dei due piedi facciamo attenzione a centrare correttamente i due perni ed eccolo qui ragazzi finalmente il nostro modellino sul basamento ufficialmente è stato completato andiamo a vederlo in tutta la sua interezza e tutto il suo splendore andiamo quindi anche ad accendere tutti gli effetti luminosi cominciamo dagli occhi ragazzi raggio gamma eccolo qui spero di dirgli bene questa volta i raggi di questo modellino perché è facile confonderli quindi il raggio gamma raggio delta quelli del torace eccolo qui effetto luminoso all'accensione e poi per finire l'ombelico il raggio protonico anche qui effetto luminoso a ruotare guardate che spettacolo adesso ci facciamo una panoramica finalmente di gig robot d'acciaio completato eccolo qui ragazzi non entra neanche in camera per quanto è grande ed eccolo qui completo del suo basamento veramente una bestia guardate che spettacolo veramente bello ragazzi modellino fantastico veramente soddisfatto del risultato concludiamo qui l'assemblaggio di questo modellino veramente bello e come promesso ecco qui la panoramica tanto attesa cioè gig robot d'acciaio completo a fianco al suo fratello gold rack ragazzi due modellini della stessa serie della gazzetta dello sport ci prepariamo diciamo nell'attesa del terzo modellino che sicuramente uscirà e sicuramente ragazzi sarà mi dispiace dirlo sarà un mazinga z ovviamente vanno molto sui modellini commerciali quelli più diciamo gettonati quindi sicuramente mi aspetto un mazinga z da un grande mazinga io sinceramente mi sarei un po più buttato su modellini un po più particolari tipo un voltron ragazzi come lo vedete un voltron tutto di plastica da 60 fascicoli lo vedrei molto bene un datan 3 un d'artagnus ragazzi ma perché non fanno d'artagnus che cosa stanno aspettando a fare un d'artagnus questa cosa non si capisce un datan 3 un trader g7 ragazzi abbiamo un robot all'infinito da creare e da costruire ovviamente ho messo a fianco anche iron man alto 60 centimetri della de agostini eccola qui la mia armata e come sapete il futuro ci sarà anche mazinga z che purtroppo purtroppo ancora qualche problema con alcuni fascicoli che stanno per arrivare così continuiamo anche con i mazinga z e poi ci sarà anche batman eccolo qui ragazzi va bene cosa dirvi il video finisce qui mi raccomando lasciate un super like al modellino di giga robot d'acciaio al nostro video iscrivetevi al canale mac gabri collections per seguire tutti i prossimi appuntamenti io vi ringrazio per aver seguito tutta la costruzione di questo fantastico modellino insieme a noi vi lascio con questa fantastica panoramica e ci vediamo sul canale con i nuovi video ciao ragazzi ciao iscriviti al canale con i nuovi video grazie a tutti